ok quindi l'ultima volta abbiamo visto come usare sdxl con confui ora vediamo come usare anche proprio il refiner di sdxl per farlo abbiamo un workflow che è questo prima di tutto dobbiamo comunque scaricarci i modelli che si scaricano da HuggingFace in particolare ho scaricato la versione sdxl base 1.0 0.9 VAE safe tensors e anche la versione del refiner che vi ho visto che serve per fare le nostre cose l'ultima volta abbiamo visto che bastava caricare il checkpoint applicare i due prompt positivo e negativo e usare il ksampler per 20 step e se io uso il ksampler advanced che consente di dire fino a quando applicare lo step e poi applicare il refiner quindi vediamo praticamente questo esempio che noi usiamo che noi facciamo sia il la base che il refiner e quindi otteniamo un prompt in cui c'è un medieval man riding a dragon c'è un uomo medievale che cavalca un dragone fotorealistico immagine piena due ali perché visto che spesso non le fa le ali due ali ma ne fa una sola del dragone e gli ho detto di non mettere l'extra tail fondamentalmente quindi il risultato che ho ottenuto sono queste due immagini una ottenuta praticamente in questo modo che vi ho appena fatto vedere e una invece ottenuta con un altro lot checkpoint sul refiner con gli stessi prompt che però non posso purtroppo o almeno non credo che si possano utilizzare gli stessi box iniziali quindi devo raddoppiarli in pratica le ho messe lo stesso prompt e gli ho messo un altro ksampler in cui questa volta gli ho detto che è stato a step 15 e finire all'infinito 10.000 ok le due immagini qui non si vedono molto bene come come sono però se noi confrontiamo le differenze di queste due immagini quindi aspettate che vediamo un attimo abbiamo praticamente ecco abbiamo ho fatto un sito online che confronto le immagini a differenze non si vede in realtà moltissimo ma se le confrontiamo vediamo che il refiner aggiunge qualcosa l'immagine destra del refiner e l'immagine di sinistra è quella iniziale quindi passando dall'immagine senza refiner a quella con refiner vedete che c'è una qualità dell'immagine che in realtà l'occhio umano percepisce poco però vedete che passando qua è molto più definita cioè è molto più sicuramente c'è più contrasto e ci sono più dettagli laddove qui ad esempio vedete sull'ala qua no vedete che qua sull'ala praticamente nella immagine originale ci sono qualche intaglio invece passando refiner sofistica un po' il riferimento e anche il cielo se voi guardate il refiner lo aggiusta e aggiunge un po' di particolare ho nulla di speciale ma parlando di sdxl questo è quanto ora per sicurezza proviamo a ricostruire questa cosa partendo da un config ui vuoto quindi praticamente cosa facciamo vediamo che riusciamo a ricostruire questo questo aspetto questo questo cosa come vedete c'è un k assembler advanced in realtà ripartiremo con il vai decode eccetera partiremo con quello standard quindi facciamo l'odd default e così vediamo un po di sistemarci allora a questo punto mettiamo per fare la prova cominciamo col modello base il pruned ema only che 15 che è un po bruttino l'immagine se la fa 512 adesso poi la proviamo anche 1024 e gli mettiamo giusto per riproducibilità il no seed a zero e gli mettiamo fixed steps 20 cfg 8 sample name euler però l'euro abbiamo visto che funziona leggermente peggio di altre per esempio level ancestral funziona leggermente meglio e schedule lo prendiamo normale poi quando passeremo al al nostro stable diffusion useremo il carras aspetta carras ok il denoise 1 perché vogliamo farci fare tutto quindi se noi facciamo il prompt che abbiamo utilizzato quindi praticamente gli diciamo il prompt originale a medieval man riding a dragon dragon quindi per semplicità gli mettiamo qua gli mettiamo riding a dragon gli aggiungiamo alla dicitura che vogliamo due ali così gli mettiamo sullo stesso livello quindi gli mettiamo il l'aggiustatina quindi aggiungiamo two wings ok e qui gli mettiamo no extra tail extra tail che praticamente non vogliamo una coda di troppo vediamo se riusciamo va bene lo scriviamo extra tail extra tail e lanciamo sicuramente questa immagine qua qua se non vogliamo un'esplosione di immagine al posto di save image mettiamo la preview quindi mettiamo un immagine add node image preview image questa così la vediamo e facciamo il cue prompt così vediamo che lui praticamente dovrebbe caricare il modello che è piccoletto sono 3 gigabyte quindi dovrebbe impiegarci relativamente poco ah sì qui ho aggiunto anche un'altra cosa e cioè che era doveva essere fotorealistic e quindi mettiamo il prompt full image ancora perché vedete che è così ci ottiene un disegno di stabilità diffusione vecchio 512 che però non è un gran che è bello gli mettiamo ancora fotorealistic full image 2 wings quindi ripetiamo in questo modo quindi vedete che ripete non carica più il modello perché è uguale e che metto il prompt quindi lo ricalcola e quindi ottiene un'immagine fotorealistica che potrebbe anche essere accettabile in alcuni contesti ma proviamo a vedere se facendola caricare direttamente 1024 anziché 512 migliora un pochino quindi facciamo il cue prompt adesso sarà leggermente più lento di 20 step però in teoria sempre messo che le immagini originali fossero giuste cioè fossero fatte a 1024 quindi la vediamo subito se vengono delle immagini un po' sbagliate doppie magari vuol dire che in realtà 1024 per lo stable diffusion diciamo vecchio versione 1.5 non andava bene comunque adesso siamo in tempo reale abbiamo questa immagine come vedete che era già carina c'è un castello c'è un po' di robe ma non è il massimo ovviamente aspettiamo che arrivi alla ventesima interazione sempre con lo stesso prompt quindi dovrebbe essere fondamentalmente lo stessa immagine ecco vede che non è stata fatta 1024 perché l'immagine viene raddoppiata in modi molto abbastanza strani quindi noi cominciamo a caricare il modello base sdl base 1024 qui sempre un name andiamo su quelli che sappiamo che funzionano benino carras per il modello sdxl e cominciamo a fare il più prompt quindi da 0 20 e facciamo più prompt ok quindi carica il modello base ci piega un attimino nel frattempo vi faccio rivedere tanto che lui carica cioè vedere come siamo passati dalla versione 512 che vedete dello stable diffusion 1.5 che era un po' scadente gli abbiamo aggiunto la questione fotorealistica tenendo un'immagine in realtà abbastanza scadente siamo andato alle sedie xl base con 512 che però abbiamo detto che le sedie xl è stato tarato su 1024 quindi andando su 1024 abbiamo un'immagine molto migliore poi questa immagine l'abbiamo in realtà cambiato il diffuser quindi cambiando il diffuser vedete che il risultato cambia parecchio migliora in realtà sembra che il sdxl funzioni meglio col carras per quanto anche la versione normale diciamo fatta con gli altri diffuser sono comunque carine ma manca un'ala e ci sono due code avevo visto nelle mie esperimenti quindi ho modificato il prompt dicendo che in realtà le ali sono due tanto le ali l'ha messe sul su di lui e non sul e non sul drago quindi bisogna aggiustare che le ali ce le ha il drago in realtà però comunque è carina e poi aggiungendo il refiner si ottiene il risultato che avete visto prima ok torniamo alla nostra cosa quindi vedete che abbiamo questo dunque two wings facciamo il fire on the dragons adesso non sono sicuro che ce la faccia però dovremmo convincerlo che le ali ce l'ha il drago in realtà e non il e non il cavaliere quindi questo praticamente magari si può dire che il dragone ha il drago ha due ali ecco questa è come vedete l'immagine che è già l'immagine che potenzialmente è ad alta risoluzione quindi vedete che è quella più o meno quella che abbiamo ottenuto facendo praticamente la correzione del prompt tra l'altro le operazioni al prompt positivo di solito hanno un impatto maggiore di quella del prompt negativo e quindi otteniamo adesso tra poco ha finito ecco vedete che fa il va e decode vi ho un'immagine dove tendenzialmente dovrebbe rispettare non l'ha modificato tanto quindi suppongo che mettendo il prompt in questa maniera lui suppone fondamentalmente che ce l'abbia lui il cavaliere ma va bene teniamoci questa immagine adesso vediamo l'uso del refiner per avere il refiner dobbiamo caricare innanzitutto quindi facciamo clone del load checkpoint gli carichiamo il refiner che vedete a questo punto dobbiamo creare un'altra struttura tipo questa quindi dobbiamo rifare il prompt in realtà quindi facciamo questo facciamo clone il prompt positivo questo clone il prompt negativo che sono già pronti praticamente dobbiamo attaccare il clip quindi il clip va praticamente del refiner va sia nel prompt positivo che nel prompt negativo e dobbiamo clonare il ksampler quindi prendiamo il ksampler facciamo il clone otteniamo un altro ksampler però ecco qui il ksampler in realtà serve meglio avere il ksampler advanced quindi cancelliamo il ksampler cancelliamo anche il ksampler da qua e diciamo che mettiamo un nodo sempre un sampling e mettiamo il ksampler advanced quindi dobbiamo ricostituire praticamente la struttura quindi l'immagine prodotta da ksampler la mettiamo nel decoder quello che genera l'immagine in preview questa qui abbiamo il modello visto che abbiamo cancellato abbiamo ricostruito da capo quindi gli mettiamo il modello originale gli mettiamo il conditioning positivo conditioning negativa e gli mettiamo l'immagine 1024 vuota da cui eravamo partiti ok e quindi adesso abbiamo praticamente di nuovo il tutto però abbiamo detto che dobbiamo far lavorare questo ksampler non per tutti gli step ma soltanto fino al 15 quindi facciamo 15 step fatti con il normale e poi duplichiamo col clone questo otteniamo un altro l'ingresso sarà l'immagine prodotta dall'altro ksampler la mettiamo qua il modello di questo sarà il nuovo modello refiner perché l'abbiamo scaricato proprio per poter fare refiner il clip prendiamo conditioning positive e negative la copia di prompt che abbiamo fatto prima ok e abbiamo un'immagine in uscita quindi mettiamo ancora 0 ok quindi qua abbiamo detto che ci piaceva il dpmm2 mettiamo il carres e questo mettiamo dal 15 fino al non so se prende il 10.000 sembra di sì quindi ho preso le stesse caratteristiche dobbiamo ancora mettere il sampler name mettiamo il dpmm2m e il carres ok e l'immagine in uscita dobbiamo decodificarla e poi metterla come preview quindi prendiamo questo e shift questo e facciamo clone così dovremmo aver clonato sia il vae che adesso mettiamo il samples e il vae gli mettiamo il vae che era rimasto vuoto e poi abbiamo clonato anche questa che era l'immagine in uscita e quindi gli mettiamo l'immagine in uscita quindi se abbiamo fatto tutto a posto a questo punto possiamo fare il cue prompt e vedere praticamente allora ricostruisce l'immagine originale perché abbiamo modificato il sampler quindi deve rifare questo pezzo no? quindi si rifà tutti i suoi 15 sampler infatti non deve fare un pochino di meno perché deve ottenere un'immagine che è leggermente meno chiara che fa 5 step in meno e il step appunto diciamo di farne un po' qualcuno di meno quindi l'immagine di prodotto qua dovrebbe essere leggermente diversa da questa ma simile ecco come vedete scatta il vae e decode e quando è finito ci viene l'immagine vabbè no? in realtà è praticamente simile perché gli ultimi 5 step erano abbastanza simili e poi però cosa fa? deve caricarsi il modello vedete che è in verde in verdino si carica il modello refiner ci piega il suo tempo stop, sospendo un attimo e quindi a questo punto è passato a fare gli ultimi 5 step di questo start step 16 c'è scritto vabbè 15 devo dire in realtà e quindi abbiamo scatta anche il vae e decode e scatta praticamente la modifica qua vedete che sembrano uguali ma probabilmente se li verificate quindi potete fare open image qua e potete praticamente confrontare i due i due disegni equivalenti quindi qui l'unico problema di questa foto è che sono le ali le ali che non sono qua quindi probabilmente bisogna dire the dragon has two wings anche qua bisogna praticamente duplicare la cosa e ctrl v vediamo se lo capisce non ho garanzie perché sapete che i prompt sono sempre tutti un programma ok qui sembra che abbia tenuto in memoria in realtà il checkpoint dell'SDXL quindi non lo ricarica più quindi non prendiamo tempo a ricaricare questo giro in nuovo il checkpoint base effettua gli step che gli abbiamo detto i 15 step ok sospendo ok ci ho impiegato un attimino perché si è comunque caricato poi i modelli in memoria ed è che è cambiato un po' radicalmente l'immagine e l'ha rifinita l'ha fatta un po' strana perché effettivamente ha cercato di dare due ali al dragone però mentre l'ha cavalcato gli veniva difficile e quindi in realtà l'ha risolto quindi l'ha cercato di risolvere facendo un doppio dragone praticamente no? che è anche un'idea originale e questa è la versione diciamo che ha un po' rifatto ora tra le due versioni bisogna fare la differenza comunque sappiamo che sappiamo quindi che il refiner quindi anche dando il denoise opportuno anzi probabilmente non c'era il denoise questo vedete che qui c'è un noise seed ero dovuto avere il denoise fa le sue cose randomize fa un po' di mestiere e quindi migliora un po' il tutto quindi questo è il workflow fatto anche da zero in modo tale da farvi capire la difficoltà a volte che si ottiene ma la soddisfazione perché permette di provare in tempi abbastanza rapidi ad aggiungere elementi aggiungere il refiner ad esempio in modi vari svariati modi a un'immagine e vedere cosa succede è tutto quindi buona giornata a a a